Ma che roba! Ma quanti ai teri saranno a sta tempo? È tutto vero quello che si dice in giro del fondo per la Haschia? Partiamo da un minimo di 500, eh? 500 mila? Eh, sì. Ma non si può ristrutturare? Senti, amore, io il regalo lo faccio volentieri a te. Sei la cosa più bella che mi è capitata. Sono incinta. I soldi, ben un mare ci sono. Non so se ce la faccio, non vederti più. Ma chi ha detto che non dobbiamo più vederci? Io non penso se si venisse a sapere, guidando il tuo fuoristrada, hai messo sotto un povero Cristo. Oh, che beguardo. Non sono stato io, come glielo devo dire? Ma cosa ti ricordi? Eh, ma... Capitano, cosa ha combinato questo impecigliere? Ci vedi che quali sono? Quando le cose diventano pericolose, sparisci nel tuo saltero di lusso sulla coppia. Ho messo i 700 mila sul fondo di me. Allora, chi l'ha portata, sta benedetta macchina? Avete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto. Abbiamo vinto. Ci sei anche tu, amore.